L'altro giorno stavo guardando un negozio di quadri al mare e all'improvviso mi ferma un signore che non conosco e mi chiede ma sei il pittore della notte? Sì, ti seguo in Instagram e mi piacciono le cose che fai. Sono rimasto così allibito che una persona che non conosco mi abbia riconosciuto. Una sensazione molto bella che sono emozionato perfino a parlarne. E così dopo mi ha contattato, spero che questo signor Angelo, che ti iscrivi anche al mio canale YouTube, mi ha contattato in Instagram e mi ha praticamente acquistato un acquarello. Io ho chiesto quello che per me è giusto e lui me ne ha dati di più. E' una cosa che non so spiegare, però grazie di cuore. Quando arrivi al cuore della gente con quello che fai tutto il giorno, è molto bello. E mi ha dato anche la forza di andare sempre avanti e di crescere. Infatti, fra un po' di tempo avrò un altro studio, mi trasferisco. Sto listendo un studio, spero di fare dei video più lunghi, di dipingere insieme anche a voi. Sì, di far crescere anche questo canale, questo piccolo canale. Vabbè, ne approfitto per ringraziarvi. Ogni giorno qualcuno si iscrive a questo canale. Grazie di cuore, grazie di cuore per i commenti. Sto guardando un pettirosso bellissimo. Niente, l'altra sera ho fatto un pastello, che era da tanto che non lo facevo, e ve lo lascio dopo questo video, vi lascio il mio pastello. Buona continuazione a tutti, io adesso vado al lavoro. Vi abbraccio, grazie di tutto. Un bacio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.